Lucrezia Borgia, bellissima e terrificante. Avvelena i suoi amanti con la cantarella, chi sarà la sua prossima vittima? È dolcificante. Oh, Santi, ma che è questa? È il mio primo documentario. Che documentario? Che la prima cosa che ha detto è stata che avvelena gli uomini con la cantarella. Ma da retta a me che la conosco bene. Lucrezia è un personaggio da telenovelas. Ehi, facciamola così!